oggi voglio fare un video che ti porterà a pensare che sono folle d'altra parte forse non è neanche il primo e sicuramente non sarà neanche l'ultimo allora io ho ricevuto in questi giorni una lettera dalla asl periodicamente la sto ricevendo ogni anno questo è il terzo anno direi in cui sono invitato ad aderire ad una campagna di analisi gratuita delle feci allo scopo di prevenire il tumore al colon ora un tempo io avrei giudicato questa iniziativa lodevole dopo questi ultimi anni di psicopandemia la mia opinione sull'azienda sanitaria e sottolineo la parola azienda è cambiata drasticamente e mi domando se questa non sia invece una campagna di acquisizione di nuovi clienti per la chemioterapia e qui tu inizierai a pensare eresia questo sta incitando invitando alla non prevenzione beh io sono di tutt'altro avviso io penso che la prevenzione vada fatta in un altro modo vedi questo stato è quello stesso stato che unico sul territorio come monopolista vende le sigarette salvo lavarsi la coscienza scrivendoci sopra il fumo uccide da una parte e dall'altra offre le cure per il tumore ai polmoni questo stato è lo stesso stato che ha fatto una strage degli innocenti obbligando a macellare migliaia di suini sani in allevamenti privati in piccoli allevamenti privati allo scopo di tutelare gli allevamenti intensivi e quindi questo stato che favorisce l'arrivo sulle nostre tavole di carni piene di ormoni provenienti da animali stressati che fanno una vita di inferno e che quindi sicuramente non produrranno un cibo sano per la nostra salute e qui non sto entrando nel merito di essere vegani vegetariani perché anche dal punto di vista dell'agricoltura e degli agenti chimici che vengono impiegati si può fare lo stesso ragionamento e quindi se proprio vogliamo fare prevenzione invitiamo le persone ad alimentarsi poco e in modo sano a fare sport vita all'aria aperta e a non stressarsi questa è la vera prevenzione ma nessuno sembra accettare che la strada sia questa perché è molto più comodo prendere la pillolina che papà stato ci offre ebbene io non ci sto adesso ti lascio libero sfogo alle tue invettive contro le mie opinioni d'altra parte la cosa non mi riguarda buona prevenzione